chest rig chi com cinese sia di produzione che di adozione era costruito in maniera semplice e spartana con pococchi materiali pregiati in effetti troviamo dei bottoni in legno in legno intagliato con delle asole efficace e al tempo stesso funzionale cuciture solide ben salde rinforzi sul fondo nasce per i caricatori della k47 in effetti ne può contenere ben tre e lateralmente poteva portare ben quattro granate come vediamo le due parti sono speculari uguali identiche con lo stesso contenuto a differenza di quello di tanti anni fa questo vediamo che è stato migliorato nei materiali in quanto internamente rinforzato con della cordura anche sul retro possiamo vedere della cordura che l'ha irrobustito le tracolle sono regolabili andavano incrociate sulla schiena andrebbero incrociate così e questa fettuccia va da girovita serve per legarla intorno alla vita senza fibbie senza niente va semplicemente allacciata questi cursori servono per tenere ferme le fettucce in avanzo ovviamente può contenere anche altri caricatori diversi da quello della h47 la schiena è molto lunga e abbondante la stessa prova l'abbiamo fatta con caricatori del colt di vario genere che vanno vanno bene ugualmente all'occorrenza si può mettere un pezzettino di legno come fermo per utilizzarlo con altri tipologie di caricatori grazie a tutti